Una delle parole alle quali dobbiamo richiamarci di più, oltre ovviamente alla devozione nei confronti del nostro patrono Santubaldo, è proprio il senso del rispetto che dobbiamo alla città, che dobbiamo a tutte le sue componenti, che i ceraioli debbono l'uno rispetto all'altro, che i ceraioli di un cero devono ai ceraioli degli altri due. Credo che questo sia uno degli aspetti sui quali mi sento di richiamare di più la collettività, la comunità, perché come ci ricordava il professor Jacquet in quello splendido incontro che si è tenuto nell'arengo del Palazzo dei Consoli, i ceri sono una grande festa comunitaria, collettiva, non ci sono protagonisti, non ci sono solisti. Sono una festa dell'umiltà, perché si guarda dal basso verso l'alto, il cero ci invita a guardare dal basso verso l'alto, a sentirci piccoli, a sentirci inadeguati singolarmente se non cumuliamo le nostre forze, se non le uniamo con gli altri e soprattutto l'umiltà è quella che ci fa guardare verso il cielo, verso la basilica, verso il monte, a salire. E poi c'è questo richiamo che ha fatto anche lo stesso Jacquet a una festa che richiama anche riti, valori e condizioni che appartengono al lontano passato, che sono state anche condizioni di miseria, di povertà, di frugalità, di sobrietà. Quindi ecco, quando viene mosso l'invito ad essere anche su questo più moderati, a non esagerare, a non eccedere in nulla e a rispettare la città anche quando si festeggia, evitando manifestazioni diciamo così anche poco consone, poco rispettose e soprattutto che danno magari del clima della festa dei ceri un aspetto negativo che credo sia del tutto fuori luogo perché la festa dei ceri deve essere una grande manifestazione di civiltà, di accoglienza, di amore per la città e questo amore per la città va tradotto nel rispetto dei suoi spazi, delle sue piazze, delle sue vie, dei suoi vicoli, dei suoi muri, di tutto ciò che la caratterizza.